Voglio parlare a tutti i nostri clienti, tutti quei clienti che vogliono comprare casa, vogliono venderla, ci stanno pensando. Noi in questi giorni stiamo organizzando quella che viene chiamata fase 2, stiamo immettendo delle nuove procedure di sicurezza che consentiranno lo svolgimento del nostro lavoro in massima sicurezza per tutti i nostri clienti e per tutti i nostri agenti. Le agenzie saranno igienizzate, verranno utilizzati i materiali corretti per affrontare questa situazione. Ma inoltre abbiamo imparato a lavorare in maniera differente, quindi continueremo a incontrare i nostri proprietari o nuovi proprietari che ci affideranno gli incarichi con sistemi di videoconferenza e nel momento in cui sarà necessario con incontri fisici sempre rispettando le dovute cautele del momento. Inoltre tutto ciò che riguarda la comunicazione in merito agli immobili privilegeremo i virtual tour, i video, metteremo gli acquirenti nelle condizioni di avere un servizio eccellente che gli consenta di decidere al meglio se è l'immobile giusto per loro. E poi andremo a vedere insieme la casa. Una visita che sarà sempre più naturalmente filtrata, questo sarà un beneficio sia per gli acquirenti che per i venditori perché tutti quanti noi saremo più efficaci e più efficienti. Credo che sia importante continuare i nostri progetti di vita. Chi voleva acquistare casa potrà acquistarla, chi voleva venderla potrà vederla, è molto importante andare avanti, noi vi supporteremo nei vostri progetti. Io resto produttivo.